Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnark. Oggi vi mostrerò la B3 della finale della Premier Challenge di Palermo di giorno 31 gennaio. Dalla parte vediamo i Pokémon di Fuoco 24, Kangaskhan, Tundurus, Arcanine e Sylveon. Guido invece usarà B-Sharp, Kangaskhan, Landorus e Rotom. La patrice ovviamente. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa sfida. Vi ricordo di seguirci infine tramite la nostra pagina Facebook e il nostro forum, di cui troverete i link in descrizione, per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda video, tornei e news Pokémon in generale. Spero che questa partita possa essere vostro gradimento. Qui vediamo che Guido parte con Landorus e Rotom la lavatrice e invece Fuoco 24 parte con Kangaskhan, Tundurus. Landorus si protegge quasi sicuramente per paura del bruciapelo di Kangaskhan, che appunto però non arriva. Rotom qui cerca di fare speed control paralizzando Arcanine. Landorus fa Frana per cercare magari di far tentennare uno dei due. O anche per colpire entrambi i Pokémon di Fuoco 24. Vediamo che Rotom la lavatrice e Vitropompa è one shot a Arcanine. Cosa davvero notevole, dato che comunque Rotom non ha un attacco speciale elevatissimo, e Arcanine ha abbastanza punti. Qui ottima predict da parte di Fuoco 24, il quale predicta appunto la protezione di Landorus e fa un doppio attacco sul TomTom di Guido. Usando appunto Bruciapelo. Ah no, scusate. Aveva fatto Tononda su Landorus aspettandosi magari uno switch di Landorus. Adesso vediamo che Tundurus fa provocazione per non fargli usare Tononda. E Gelobugno è shot a Landorus. La situazione è un momento di parità, in quanto tutti e due i sfidanti hanno tre Pokémon a testa. Qui Tundurus paralizza Kangaskhan, magari per cercare di farlo rimanere paralizzato qualora attaccasse prima. Però il Kangaskhan di Fuoco 24 va colpo basso e shotta il Kangaskhan di Guido e complice anche un brutto colpo sul secondo attacco, dato che penso comunque sarebbe resistito a entrambi gli attacchi. Qui Rotom Lavatrice non può fare altro che attaccare, dato che è ancora sotto effetto di provocazione. Tundurus anche qui fa quello per cui è nato, ovvero cercare di paralizzare chiunque, ma purtroppo però B-Sharp si protegge. Infine B-Sharp va di sbilattacco per colpire prima di Kangaskhan, ma Kangaskhan con colpo basso lo manda KO. E si conclude così la prima delle due partite, la finale della Premier Challenge di Palermo, con Fuoco 24 che si è giù che dedica il primo incontro. Spero che questa partita sia stata di vostro gradimento. A domani con la seconda parte di Questabio 3, un abbraccio dal Team Infinity.